Sì, sì, sì. e non c'ho niente io il mio telefono l'avrò già perso io siamo ancora 0-0 quanto è passato? 3 secondi a posto sono qua dai dai teniamo non si sente non ti copri la faccia oh salta salta chi non salta interista è? 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 guarda che qua è zona di interista Noi finlandesi tra di noi Sei tornato la politica Scusate, avete tutte le gambe Tutte le gambe a destra Ragazzi Ragazzi, questa è una foto ufficiale l'avete visto quelli dell'Inter come erano messi? è giusto fate una foto come quelli dell'Inter uno deve essere nero però fate una foto da vincitori allora ragazzi un attimo allora bisogna adesso fate una faccia seria ecco va bene ora la faccia da perdente ora da perdente si giusto ora la faccia da chi ha pareggiato 0 a 0 se contro l'Inter sarei pareggiato mio figlio è apatico sempre uguale pozzetto con il numero 10 Simone con il numero 3 Paroni e Riccardo con il numero 3 Riccardo Paradi con il numero 6 Samuele Bottaro con il numero 6 Samuele Bottaro con il numero 4 Luca con il numero 4 con il numero 13 Piccolo Francesco piccolo con il numero 9 Samuele Mangano con il numero 9 Samuele Mangano con il numero 5 con il numero 5 con il numero 5 con il numero 5 Filippo Matteo al Samuele il numero 5 il numero 5 il numero 5